Il bisogno di recuperare fiducia nella legalità, il dovere di ripartire dai giovani e dalla loro formazione per allontanare lo spettro della criminalità. Il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, commenta gli episodi di cronaca che hanno investito la sua città nelle ultime 24 ore e fa appello alle forze migliori della comunità per combattere ogni forma di legalità. L'omicidio a colpi di pistola di Corrado Parisi è avvenuto ieri pomeriggio ad opera del titolare del bar New Meeting di Via Capotorti come reazione esasperata alle richieste di restituzione dei soldi persi alle slot machine da parte della vittima. Non deve allarmare i cittadini di Molfetta ma richiamarli ad un rinnovato sforzo di vicinanza alle fasce più fragili della società. Minervini ne parla a margine della presentazione di un progetto di recupero di un bene confiscato alla mafia da destinare al luogo di aggregazione per ragazzi costretti a vivere in contesti familiari compromessi. Il mio dovere, il nostro dovere è quello di fare prevenzione generalista nelle politiche sociali, di integrazione, soprattutto nei più giovani ed è quello che stiamo facendo con i psicologi nelle scuole, con gli interventi, adesso apriremo uno sportello di servizio sociale proprio in quel quartiere con il recupero di questi immobili così come stiamo presentando oggi per dedicarci alla prevenzione primaria dei rapporti sociali e dell'integrazione sociale, questo è il dovere di una comunità. Rimane il fatto triste ma come dire, il nostro dovere, so bene che questa città ha gli anticorpi sani per reagire immediatamente, peraltro non è che reagiamo all'indomani di questo episodio, è una politica che stiamo portando avanti. Minervini giudica in maniera positiva anche l'operazione della Guardia di Finanza nei confronti dei furbetti del cartellino che operavano l'ospedale di Molfetta. Questo è un episodio, io lo giudico positivo, perché c'è tanta gente brava che si impegna, la stragrande maggioranza dei dipendenti della ASL, dei medici della ASL, del comune, degli uffici pubblici, ed è bene colpire quelle sacche minoritarie che ancora non si convincono che chi lavora nel pubblico deve dare qualcosa in più rispetto al rapporto di lavoro, perché fa appunto un servizio pubblico nella sanità poi in particolare, ma anche nel comune. Quindi è bene che queste sacche vengano immediatamente isolate e che appunto si sappia che tutte le forze dell'ordine, le istituzioni sono dalla parte delle persone che danno non soltanto il lavoro ma quello che è la passione per un lavoro pubblico. Grazie.